parliamo dell'attentato di trump che sicuramente ormai tutti avete seguito tante notizie sul soggetto e leggo solo questo titolo di un video che dice trump shooting news fbi identifies trump rally shooter the motive behind the attack remains a mystery allora l'attaccante di trump è stato identificato i motivi rimangono misteriosi anche strano ciò vuol dire che è uno scheletro nell'armadio cioè si conosce pensi e non vogliono dirlo o proprio non sanno cosa è successo perché è successo ma io credo che qualcuno lo sa anche fin troppo bene come quando uccisero kennedy se qualcuno lo sapeva fin troppo bene chiusero l'investigazione i 4 e 4 8 e ciao finita la storia l'assassino fu ucciso quello che lo uccise lo sui lo suicidarono e tutto è chiuso ma il fratello il nipote di john kennedy figlio di robert kennedy che adesso corre per la casa bianca anche anche robert kennedy fratello di john kennedy fu ucciso fu assassinato e allora sua figlia adesso sta dicendo che sono sta è stato lo stato profondo sono le istituzioni il governo ombra che lo ha ucciso e voi sapete chi sono no i pezzi grossi che parlo sempre insomma molte bocche chiuse riguardo l'attentatore di trump e cosa fanno questi stato profondo le istituzioni che quelli che comandano in america non è i presidenti il senato il parlamento sono le istituzioni quindi la cia e l'fbi la sicurezza nazionale eccetera c'è tutte queste istituzioni che non vengono eletti è poco ma bruxelles che tra di loro si eleggono i grandi capi sono sempre a galla e allora evidentemente vi sono scheletri negli armadi che non si vuole pubblicizzare l'imbroglio del momento è che i fessacchiotti credono i media dicono ai fessacchiotti che diciamo è stato trump organizzare tutto quindi si è fatto sparare si è buttato una pentola di vernice in faccia e c'è chi dice quello e c'è dei poveracci che ci credono che se lo dicono i media e bisogna crederci no oggi i media sono la bibbia del momento sono i media se lo dicono i media oè mano sul fuoco attenzione che finisce carbonizzato e allora trump ha organizzato tutto naturalmente trump si è messo d'accordo col cadavere c'è uno che c'è uno che c'è uno che si è fatto uccidere cioè dato la vita cioè io questi qui non so se sono fessacchiotti sul serio o se fanno finta di esserlo e poi perché vorrebbe trump rischiare un tale una palottola che può facilmente colpire il suo cervello ma loro dicono che si è buttato per terra e si è buttato da una pentola di vernice addosso e quindi c'erano lì almeno 100 o 200 persone intorno a guardare tutti d'accordo tutti tutti quanti hanno cooperato specialmente quello che si è fatto uccidere incredibile cioè praticamente è pazzesco cioè come il dialogo è andato all'incontraria no? ah tu chiedi la cospirazione ecco la cospirazione l'ha fatta Trump insomma non so se c'è da ridere c'è da piangere i poveracci è davanti alla televisione a credere a queste cose quanto sono furbi questa gente secondo loro Trump ha organizzato tutto non avendo potuto ucciderlo a fucilati adesso cercano di ucciderlo con le bugie cioè tanto arriva l'odio di questi fascio marxisti sono fascisti marxisti questi qua o marxisti fascisti il motivo dell'attentato non si sa perché credo che il poveraccio era teleguidato a distanza dallo stato profondo dai diavoletti che guidano col telecomando guidano l'America guidano Biden guidano i politici siccome Trump non vuole farsi teleguidare allora deve fare la fine come di Kennedy insomma guarda qui abbiamo dei media che ho guardato televisione indiana e questa televisione indiana si chiede ma non leggi questa televisione indiana così che dice il titolo Trump shooting Trump shooting confirms the US democratic decline ecco qui la televisione dice la sparatoria contro Trump conferma dice la televisione indiana il declino della democrazia in America quindi in America se in America o fai come dicono le banche o prendono il primo pazzo che ci hanno lì teleguidato perché i pazzi si possono teleguidare gente dalla CIA così che vanno lì camuffati da amici e lo imbeccano lo ispirano lo motivano eh bisognerà uccidere qualcuno dovrebbe uccidere Trump ah lo faccio io capito ecco che parte il pazzo allora questi media dell'India si chiedono se i servizi segreti americani cioè il servizio televisivo questo canale tv indiano grande grande canale si chiama First Post per me è il primo dell'India si chiede se i servizi segreti americani hanno solo fallito nel cercare di uccidere Trump o se in base alle evidenze evidenze filmate sono stati complici nell'attentato contro Trump cioè lo stesso che fu per l'attentato contro Kennedy questo dice la televisione lo dico io guarda qui c'è un qui c'è una foto del del filmato Angelina cosa è che dice? si abbiamo anche noi un piccolo filmato sulla radio di un testimone lo abbiamo tradotto in italiano potete visionarlo e questo dice US forces deliberately ignored Trump's attacker secret service in dock after big revelation ecco leggi un po' quello cioè il titolo del servizio televisivo e dice la polizia è una domanda alla polizia americana ha deliberatamente ignorato l'attaccante di Trump l'ha fatto apposta e ignorarlo perché è successo questo lo sapevano che c'era uno col fucile e l'hanno ignorato per due minuti finché ha sparato dopo che ha sparato ci sono ah ecco l'hanno ucciso l'hanno ucciso come uccisero l'assassino di Kennedy cioè non doveva parlare quindi dice la televisione dice il servizio segreto americano nei guai dopo queste rivelazioni allora eyewitness eyewitnesses claim that the secret service ignored the warnings US secret was the US secret service failed or was complicit ok down eyewitnesses eyewitnesses who alerted about shooters movement claim warnings were ignored experts experts say that either the secret service agents failed to do their job of sanitizing Donald Trump's rally venue or they were complicit ok allora tutto il quante qui ci sono foto dappertutto qui praticamente io ho visto il filmato non so se in Italia l'hanno fatto vedere dipende che propaganda stanno facendo non seguo troppo con le italiane poco e praticamente dice che i servizi segreti che dovevano proteggere Trump da virgolette e sembra che erano complici di quello che ha sparato perché è successo che si è visto nel filmato che la gente la gente che ascoltava Trump gridava alla polizia c'è uno sul tetto con un fucile e la polizia faceva finta di niente come come e per due minuti gli hanno gridato c'è uno sul tetto col fucile e tutta la polizia correva come delle galline non sapevano dove andare dove come quando gli hanno puntato col dito lì guarda lì su quel tetto c'è uno con un fucile e la polizia come come quando finalmente gli ha sparato l'hanno ucciso che su un altro tetto su un altro tetto vicino c'era piazzato un poliziotto con un mitragliatore piazzato su una su un porta un porta un tripiede c'era con un mitragliatore in cima e dicono che non l'hanno visto dal tetto e dal tetto era lì un orbo lo poteva vedere quando ha sparato allora quello l'ha ucciso e loro tutti anche dall'India televisione dicono la polizia era complice ma scusa sei così imbecille completa che ti dicono c'è uno col fucile che lo vedono da terra lo vedono da terra si vedeva abbiamo un filmato che mostriamo mi pare no non c'è filmato non so se c'è sulla radio in inglese fratello scriveteci fateci sapere se in Italia queste cose ve le fanno vedere se no le mettiamo noi in inglese si vede si vede che c'è uno col fucile che sta strisciando sul tetto no non l'abbiamo messo sulla radio quello è in inglese però lo possiamo mettere ah lo vuoi mettere possiamo sì quanto è lungo ma 11 minuti non mi ricordo non ce n'è uno di 2 o 3 minuti no possiamo trovare che ci sono in giro va bene metteremo sulla radio potete vedere è una cosa ridicola dopo sì a gridare alla gente c'è uno col fucile e poi hanno detto anche che intorno a Trump sa che ci sono i poliziotti che oltre a proteggerlo così anche con i loro stessi corpi proteggono i presidenti gli hanno messo vicino anche delle donne piccoline che possono proteggere niente cioè dice i filmati americani dicono che di solito mettono gente grande grossa in maniera che uno che prende la mira non riesce che poi Trump è anche grande lui cioè che non sta cercando di uccidere la scorta cerca di uccidere lui e poi le donne non vengono usate per coprire i politici usano uomini ed omoni qui hanno messo delle piccole donne così quindi è tutta una cosa insomma vari giornalisti in America stanno dibattendo il fatto che diversi politici politici delle sinistre hanno ripetutamente augurato a Trump ogni tipo di male e persino una morte i canali televisivi contro Trump di sinistra dicevano qualcuno dovrebbe fermare merita di morire gente come Hillary Clinton come Pelosi la presidente ex presidente del senato Biden dice questo è un nazista qualcuno dovrebbero eliminarlo finalmente uno ci ha provato quindi mi ricordo la scrittura Matteo 5 andiamo lì Matteo 5 22 ma io vi dico chiunque si addira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto al suo fratello racca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco Matteo 5 22 troppo bene proverbi 17 Angelina verso 13 ti ho dato qualche scrittura lì ce l'hai ce l'ho questo 13 il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene proverbi 17 13 Galati 6 7 non vi ingannate quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà Galati 6 verso 7 cioè questi non capiscono questi malvagi che tutti questi mali che augurano gli altri tornerà su di loro cioè davanti a Dio veri colpevoli di questo attentato sono quelli che avevano mandato maledizioni contro Trump loro sono i responsabili e questo male tornerà loro noi vediamo come tanti media quasi tutti sono contro Trump perché sono tutti nella saccoccia dei soldi dalle banche e questo anche perché il Dio del mondo è anche il Dio dei media alla fine è lui che è la sua influenza che li guida questi giornali come in Italia uguale il Corriere la Repubblica la stampa sono i giornali nella saccoccia delle banche ascolti loro come ascoltare un banchiere cioè il diavolo odia Trump perché ha mantenuto l'America fuori dalle guerre ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele in linea con le profezie che vengono che Israele deve convertirsi ancora non l'ha fatto quindi Trump vuole fermare le guerre compreso la guerra in Ucraina ha detto che la fermerà in 24 ore appena lui è presidente ha detto che farà una telefonata e dirà a Zelensky fermare tutto lui ha detto che telefonerà a Putin e dirà fermare tutto ti tieni quello che ha conquistato ma non combatti più e ha detto Trump che se Putin continua a combattere armerà l'Ucraina con le armi migliori e se Zelensky non vuole fermarsi bloccherà tutti i supporti per Zelensky quindi Trump ha detto 24 ore io fermo la guerra perché Biden non ci riesce ma perché la guerra la vuole ha bisogno della guerra e allora cioè Trump ha riconosciuto Gerusalemme vuol fermare le guerre Trump è contro l'aborto libero a favore della fede cristiana si proclama cristiano lui si proclama cristiano protestante e ha scelto un vice vicepresidente che si chiama Vance che è cattolico era protestante e si è convertito a cattolicesimo quindi c'è un equilibrio capisci un equilibrio tra protestante e cattolice è un buon equilibrio diciamo e quindi sono principalmente le sinistre atee che gli sono contro i marxisti camuffati da democratici se Trump viene rialetto cioè dico pregare che non lo eliminano prima come già ci stanno provando cioè lui sarebbe Trump io credo sarebbe un grande regalo di Dio per l'America perché se quella pallottola fosse stata un giornalista ha detto se quella pallottola fosse stata 2-3 cm più a destra in America sarebbe potuto scoppiare un'altra guerra civile va bene bastavano 2-3 cm ci sono tanti fratelli che hanno inviato un video che suppostamente è un video di 4 mesi fa dove in America 3 cristiani che sono anche profeti parlavano tra di loro del tempo della fine e uno di questi profeti ha profetizzato questo attentato contro Trump lui ha avuto una visione e ha detto che ha visto proprio questa palottola che gli colpiva all'orecchio e ha detto che Trump sopravvive 4 mesi fa si è un video di 4 mesi fa e diversi fratelli hanno inviato questa profezia chiedendo cosa pensi cosa pensi di questo che è successo una profezia vera hai messo questo video sulla radio si c'è sulla radio ok c'è quello che dice luogo comune no? si ecco si c'è uno che parla molto bene lì è giusto quello che dice cosa ha fatto lui ha investigato se questa profezia è vera nel senso che è andata a vedere perché internet ti dice 4 mesi fa ma lui è andato a vedere se veramente è di 4 mesi fa o se è stata imbrogliata e dice non c'è niente dice tutto collima è di 4 mesi fa quindi è una profezia vera allora e quindi si questo video lo guardate c'è questo profeta americano dice 4 mesi fa vi ha detto ho visto Trump perché gli sparavano e gli rompevano un timpano cioè l'orecchio che poi il timpano non si è rotto comunque l'hanno colpito effettivamente all'orecchio quindi non era una pentola di vernice come dicono qualche sfasato filo propaganda americana no? e quindi la profezia sembra genuina e la profezia parla anche perché l'ho ascoltato così un minuto e mezzo due minuti o di più no un po' di più un po' di più no ma circa un minuto è il profeta che parla è cinque minuti tutto il video in italiano sì però perché parla il presentatore giornalista però allora la profezia parla di patroietti americani anche dice patroietti americani che insorgevano per la nazione in oklahoma e se si avverasse vorrebbe dire che il signore sta dando all'america più tempo capito quindi in che senso dà più tempo cioè nel senso che non sappiamo quanto tempo dio darà all'america per pentirsi chi vuole pentirsi la maggioranza non si pentirà ok ok però se mette un presidente come trump perché adesso la mano di dio lo ha protetto dalla morte cosa che non ha fatto per kennedy infatti quando kennedy è stato ucciso il suo suo rivale che era anche il suo vicepresidente tra l'altro i vicepresidenti sono tra i peggiori di tutti perché gli fanno le scarpe come vance l'altro vance ha fatto con trump e allora il suo vicepresidente di kennedy che si chiamava johnson appena è morto kennedy ha fatto esplodere la guerra di jernam lo hanno ucciso perché volevano l'egemonia in asia invece hanno perso la guerra aveva ragione kennedy quindi ha detto che questi questo profeta ha visto dei patrioti americani che insorgevano in oklahoma in oklahoma sì c'era come una rivoluzione spirituale che c'erano tante ha visto tante mani che si alzavano ogni mano aveva una fiaccola e ha detto questo sarà un risveglio dei patrioti patrioti che patrioti vuol dire famiglia dio patria che poi oklahoma questi sono i patrioti e anche lo stato dove hanno appena messo obbligatoria la bibbia nelle scuole esatto esatto adesso infatti la corte suprema con un voto di 6 a 3 perché ci sono perché prima erano 5 a 4 a favore dei marxisti democratici marxisti però siccome durante il tempo di di Trump 4 anni Dio nella sua saggezza ha permesso che morissero 3 di questi della corte suprema e Trump ha potuto nominare 3 quindi è una cosa che i marxisti americani sono rimasti scioccati perché lui ha nominato 3 cristiani va bene e quindi adesso quando votano sono sempre 6 a 3 perdono sempre 3 a 6 i marxisti e così questi corte suprema questi giudici hanno passato una legge che ogni stato che è anche giusto può giudicare può decidere se implementare la bibbia cristianesima nelle scuole oppure no invece prima con la vecchia legge anticristo era proibito a livello federale Washington proibiva tutti di mettere la bibbia nelle scuole invece adesso questa nuova corte suprema va bene ha vinto 6 a 3 e ha detto no ogni stato può decidere cosa c'è di male e questo non gli sta bene alle capre di sinistra dimmi hai detto che forse il signore sta dando più tempo all'america per pentirsi ma anche se questi patrioti sorgessero seppure Trump fosse eletto come presidente l'anticristo non potrebbe sorgere lo stesso e fare guerre con l'america ma nessuno fremerà l'anticristo perché è profetizzato inutile ci sono chiese che pregano contro l'anticristo che non viene cretinate si ma crede che verrà più tardi è profetizzato no è il fatto che non lo sappiamo quando viene quindi Dio sta dando più tempo perché la sua chiesa non è pronta la sua chiesa non sarà mai pronta perché è un'apostasia ma tu quando dici che Dio dà più tempo all'america vuol dire che sta posticipando l'arrivo dell'anticristo o potrebbe sorgere lo stesso si posticipando ah si si perché con Trump presidente non potrebbe sorgere qualcuno per fare guerra questo dipende da Dio dipende se Dio lo permette perché in 2 Tessalonicesi 2 dice che lo spirito santo sarà tolto di mezzo e allora sarà manifestato il figlio del peccato si e allora e dipende da Dio non è l'anticristo che decide quando è che lui dice adesso comincia la tribolazione ok ok adesso mi siede nel tempio di Dio 2 Tessalonicesi 2 e 4 proclamandomi che io sono Dio e adesso io faccio una tribolazione contro la Chiesa non è così Dio decide quando va bene infatti tu vedi in Apocalisse 7 e 1 c'è un angelo che dice non colpite la terra finché non abbiamo sigillato il 144.000 e allora gli angeli vengono dato 7 trombe il primo angelo suona ed ecco che c'è una guerra atomica lo vedi in Apocalisse lo vuoi leggere Apocalisse 8 deve aprire la Bibbia Apocalisse 8 8 all'inizio dice il primo angelo suona poi vedi i sette angeli e venne un altro angelo il primo angelo suona in verso 7 ecco e che succede quando suona la prima tromba il primo suona la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra ok come l'interpreto io questo qui l'anticristo fa parte dei sette anni e lì suona la prima tromba la prima tromba mia interpretazione è la costruzione del tempio in Gerusalemme inizia il tempio l'anticristo firma insieme ai co-firmatari che è l'America l'America la Russia probabilmente la Turchia a rappresentare l'Islam e i palestinesi quindi il Vaticano quindi l'Unione Europea e quindi la Cina e quindi la Russia io mi aspetto che ci siano sette co-sponsor di questo parte dei sette anni appena firma questo immediatamente Israele comincia a costruire il tempio che hanno già tutto prefabbricato tutto pronto perché nella legge di Mosè era proibito costruire il tempio facendo rumore doveva essere costruita nel più perfetto silenzio e le pietre eccetera dovevano essere le travi le gname eccetera doveva essere preparato distante che nel luogo del tempio non doveva sentirsi rumore è il tempio di Dio gli israeliani seguiranno queste leggi e appena firmano sono lì pronti a metterla c'hanno già anche la prima pietra angolare ho messo le foto sulla radio la pietra angolare del tempio lì c'è un camion con una pietra sopra un pietrone grande enorme la pietra angolare questi ancora non hanno ancora capito con la pietra angolare chi è? è Gesù è Gesù Cristo allora sarà secondo loro un marmo di Carrara non so cos'è amè bene allora fino a qui ci siamo? sì allora appena firma io vedo lì appena firma lo Spirito Santo dice all'angelo hanno firmato suona la tromba e immediatamente cade dal cielo dice cosa che dice sangue detriti fuoco sangue grandine e fuoco ecco io questo interpreto una guerra atomica perché l'unico modo che il sangue cada dal cielo insieme a fuoco è una guerra atomica va bene quando a Hiroshima e Nagasaki buttarono le bombe la cosa risucchiò nell'aria i corpi delle persone che caddero come polvere mista a sangue i corpi sparirono ci siamo fino a qui? sì così lo vedo io e allora stavo dicendo che se Trump venisse eletto io lo interpreterei come la misericordia di Dio perché Trump è un cristiano i cattolici diranno eh ma è protestante ma dovete fregarvene delle religioni dovete vedere se credi in Gesù credi in religiosi smettete di essere delle sette ma anche se è cristiano crede che conosce le profezie e che si assicurerà che non compierà le profezie o anche lui potrebbe costruire il Tempio a Gerusalemme vedremo io non lo so che non so quanto conosce lui la Bibbia quanto obbediente è lui alla parola non so questo beh lui è lui sì lui sembra che sembra che ultimamente Trump ha avuto delle esperienze spirituali sta parlando sempre di più di Gesù Cristo ah sì 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 speriamo speriamo i fratelli cattolici questo non lo riconoscono perché ci sono dei protestanti a benedirlo a pregare per lui dovete uscire dall'acquitrino delle sette religiose lui è cristiano cosa mi interessa se è cattolico o protestante a me mi interessa ma crede veramente in Gesù la nostra chiesa è una chiesa siamo una delle pochissime pochississime che non ci interessa di che setta provieni non ci interessa se tu sei del pollaio cattolico o del pollaio protestante non ci interessa ami Gesù segui Gesù nella chiesa dove vai ci sono statue adori le statue e odori Gesù se adori Gesù non mi interessa delle statue io era a Roma vedevo la fontana di Trevi vedevo le opere di Michelangelo che c'era Gesù qua non mi dà una fastidio l'importante è che tu non adori il marmo se quel marmo l'hai fatto per essere adorato è chiaro che è anticristo la raffigurazione della Madonna col bambino stai adorando il quadretto gli metti una candelina preghi il rosario ora è sbagliato se invece è come una Bibbia illustrata per i bambini per far vedere questo è Gesù questo qua a livello didattico ci siamo quindi se Trump viene eletto io lo interpreterei come che se Dio desse all'America più tempo per pentirsi per prepararsi per uscire abbiamo dei fratelli in America abbiamo una sorella con bambini una sorella che desiderava di essere una sorella qui con noi la nostra missione è andata a evangelizzare con Tea Angela si per mesi siete andate anche in altre in altre nazioni eravamo eravamo in Perù quei tempi io con lei siamo andati in altre nazioni cil argentina in giro è stato bello ed era una sorella eccezionale però ha deciso di sposarsi con un americano noi siamo rimasti un po' scioccati e si è sposata poi ha avuto tre figli però il marito all'inizio era tutto fiori zuccherini la veste di sposa cristiano tra virgolette si un americano così e poi l'ha portata diciamo l'ha portata via dalla missione è andata in America dove lui l'ha scoperto che lui si drogava si e veramente è già divorziato che già doveva mantenere la mia moglie con quanti figli tre altri tre figli altri tre figli lui era un battista che credeva non avere molti figli però si drogava e lei l'ha cacciato fuori casa dove chiamava la polizia la polizia gli ha fatto un documento gli ha firmato una carta alla polizia che lui non poteva avvicinarsi a lei perché lei non voleva il giudice ha dato i figli a lei un disastro e dopo lui abbiamo parlato con lui abbiamo evangelizzato abbiamo supplicato abbiamo lei si è rifugiata la casa della madre di lui che la madre di lui buona donna era dalla parte di lei anche i fratelli di lui la difendevano e lei insomma alla fine questo qui è morto forse di drogarsi overdose morto eccetera adesso lei è con la mamma di lui mi pare in contatto che l'aiutano no? si i familiari del marito l'aiutano insomma la situazione fratelli occhi su Gesù camminare seguire sempre Gesù e questa era una missionaria era una peruviana dolcissima evangelizzatrice fuocata molto gioiosa molto allegra però questo è arrivato l'ha ammaliata rubato il cuore rubato il cuore i ristoranti di lusso regali contro regali e quando le ha pregato ha detto che il signore le ha mostrato di non sposarlo eppure ha ubbidito per un po' di tempo eppure poi è tornato da lui ma è venuta da me un giorno lì in Perù eravamo lì e e davanti a lui mi fa frate Giuseppe pensiamo di sposarci ha detto ok la vostra fede e poi mi ha detto si si mi ha guardato mi ha guardato negli occhi mi ha guardato lui era lì che ascoltava mi fa Giuseppe tu credi che è giusto quello che faccio gli ho detto no è l'uomo sbagliato e lui mi guarda mi ricorda eravamo nel parco questo americano uno quasi due metri di altezza li guarda come ti permetti cioè non ho detto niente e gli ho detto no e questo matrimonio non è da Dio gli ho detto davanti a lui sì cioè io faccio fatica a fare amici è molto più facile per farmi nemici e da quel giorno lui per qualche motivo lui non era molto vicino a me poi quando lei l'ha cacciata fuori casa lui mi ha chiamato dall'America ci ha chiamato tante volte sì insomma chiudiamo qua voglio dire attenzione attenzione fratelli se il signore vi chiama dice primo corinzi 7 ognuno rimanga nella condizione che era quando è stato chiamato se sei singolo stai singolo sposata rimani sposata va bene posso testimoniare che questo è il consiglio perfetto di Paolo ha detto bene funziona funziona poi se Dio vuole che vi sposate tranquillo grazie insomma vale la pena vero Jasmine sicuramente dice lei ha 17 anni c'è chiamato qualche domanda sì abbiamo ancora altre notizie che credo sono molto importanti come questa sul microchip Elon Musk abbiamo messo anche un video sulla radio ma forse ne parliamo dopo perché vorrei anche condividere con i fratelli delle testimonianze dobbiamo fare anche una pausa sulla pagina radio il primo video che vedete è sul microchip quante cose che vuoi fare Angela sì oggi abbiamo una giornata carica carica non so in quante ore riusciamo a coprire andiamo alle testimonianze veloce tenete duro fratelli qualcosa di ispirante adesso vai Angela ok ciao 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 Grazie a tutti.